Buone notizie per gli studenti idonei al contributo Borse di Studio Ersu per l'anno accademico 2022-2023. La Regione siciliana, nel documento di Economia e Finanza regionale, ha espressamente previsto l'ingramento delle borse di studio annuali fino alla copertura del 100% degli studenti aventi diritto. Il Governo Schifani, fin dalla prima ora, ha manifestato attenzione e interesse particolari a garantire il diritto allo studio degli studenti aventi diritto per favorire i loro percorsi universitari con la tutela del diritto allo studio universitario mediante l'incremento delle borse di studio annuali erogate dagli Ersu della Sicilia fino alla copertura del 100% degli aventi diritto, dice l'assessore regionale all'istruzione Mimmo Turano. L'assessore Turano ha invitato gli organi di governo degli enti del diritto allo studio universitario in Sicilia ad attenersi alle disposizioni indicate, attivando le procedure per il pagamento delle borse di studio sino all'eliminazione della figura dello studente d'odio non beneficiario, trasmettendo con la massima urgenza ad indicare le risorse necessarie per coprire il relativo fabbisogno relativamente all'anno accademico 2022-2023.